Allora, sicuramente cambia quella che è la relazione e quella che è l'approccio con il campo educativo e il campo educazionale di una scuola. La cosa che a prima vista potrebbe sembrare strana è come eseguitare a fare, a svolgere le attività didattiche in una struttura che non è la consueta struttura ordinaria scolastica. E invece è proprio lì che a mio avviso nasce la vera natura della didattica, cioè quell'empatia e quel discorso di relazione profondo, di relazione così stretto con gli altri, una relazione anche empatica dettata da forti emozioni, da grandi sentimenti e dal fatto che ci si trova insieme per ritrovare una forza diversa che sicuramente ha come denominatore comune la cultura e la voglia di ricominciare dalla cultura e di ricominciare da un'attività scolastica. Ma soprattutto nasce da quella relazione profonda tra docente ed alunno che ha il valore aggiunto, quello di dare sicurezza, di tutelare, quello di cercare di portare avanti e di cancellare o non cancellare un episodio così tremendo per sovrapporsi a un qualcosa di più importante che è appunto la scuola, che è appunto un'attività didattica che dà la forza di dire che esistono altri traguardi, esiste un altro porto da raggiungere che è quello del nostro ma soprattutto del loro percorso professionale scolastico di ogni alunno e che non può essere in qualche modo violato o in qualche modo distrutto da eventi così catastrofici naturali.